Torna all'attenzione delle cronache il torrente Sellina e con esso il delicato tema del rischio idraulico nel comune di Arezzo. A portarlo all'attenzione della stampa è un'interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, Marina Staccioli e Paolo Marcheschi. Nel documento si ripercorre l'iter amministrativo e burocratico che ha portato dagli anni 60 ad oggi alla costruzione e dall'ampliamento degli stabilimenti industriali nati lungo il lato sinistro dell'argine del Sellina. Nel 2008 l'autorizzazione a costruire l'ultimo immobile industriale. Tra il 2008 e il 2010 il comune adotta la variante al piano regolatore finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e quindi nel frattempo la provincia di Arezzo intima all'azienda la demolizione di quello che viene definito un abuso edilizio. Infine con una delibera datata 30 dicembre 2009 lo stesso ente provinciale in accordo stavolta con l'azienda costruttrice dà il via libera ai lavori di deviazione del corso del Sellina ovvero la realizzazione di una sponda artificiale a distanza di 10 metri dal fabbricato che quindi non sarà più abusivo. La vicenda è molto semplice qui c'è un privato che aveva costruito troppo vicino al corso d'acqua una volta individuato l'abuso la soluzione secondo la provincia e la regione non è stata quella di abbattere l'abuso ma è stata quella di spostare il corso d'acqua siccome era troppo vicino al corso d'acqua non si sposta il privato ma si sposta il corso d'acqua con i soldi di tutti i cittadini. In regione presenteremo un'interrogazione urgente sui dettagli su quanto è costato tutto questo e se non è previsto uno spreco di denaro pubblico visto la vicenda.